Poi adesso hai preso una bella abitudine di parlare sopra gli altri, porca miseria! C'è molto di più. Ma ti rendi conto? E non sappiamo quello che è successo. E adesso ce lo dirà lei. C'è stato neanche un bacio, Gemma. Gli ho chiesto anche di abbracciarmi forte, di stringermi, tanto che comunque gli ho dato anche tre baci sulla guancia, giusto? Io sti baci scusami tanto, forse... Cioè sei contenta di un abbraccio? Cioè che sta da fare, no? Dal momento che tu mandi via le telecamere è perché vuoi stare proprio in intimità con lei. Dì la verità, lei non ti piace? Io mi piace per come sono. Bestuna che un'altro, per la vostra pi torpedo che vuoi tengtrci del passaggio. Ciao! No. Grazie a tutti.